Avete sentito quante sono dunque le botteghe storiche di Roma, diventate ormai dei veri e propri musei. Bene, questo però è soltanto il primo passo, questa legge a tutela, come ci spiega Lorenzo Tagliavanti, direttore di CNA Roma. Io ricordo spesso che nel censimento del 1991 erano 5.000, poi sono diventate 3.000 all'inizio di questo secolo e adesso purtroppo sono meno di 2.000. Questa proposta di legge potrebbe essere la soluzione? Questa non è la soluzione, però aiuta. Aiuta in due modi. Uno dal punto di vista dell'attenzione, cioè un'attenzione degli italiani nei confronti della propria storia economica, che sono rappresentate le botteghe. Secondo perché si crea un fondo che almeno sottrae la bottega storica alla speculazione della valorizzazione immobiliare. Quindi se c'è una speculazione immobiliare c'è un fondo che da questo punto di vista le può aiutare.